La mafia, la mia vita, il mio quartiere. Se ne è parlato questa mattina in una tavola rotonda che si è tenuta nell'auditorium della Chiesa del Redentore, organizzata dalla Federazione Nazionale Pensionati, CISL, Puglia e Bari. Al centro dell'incontro le storie delle figure che hanno combattuto la criminalità organizzata, come il magistrato Giovanni Falcone, ucciso a Palermo da Cosa Nostra le 23 maggio del 1992. Sono stati cinque anni pieni, intensi e mentre morivano i nostri colleghi assassinati dalla mafia, da una mafia che era diventata fortissima per tanti motivi, ma soprattutto perché era stata tollerata, tanto che chi aveva interesse diceva che la mafia non esisteva. E in quegli anni noi abbiamo imparato come si combatte la mafia, arrivando dalla negazione della mafia che ancora esisteva nel 1981, sino al maxiprocesso che ebbe inizio nel 1986. Il suo rapporto con il magistrato? Il mio rapporto è un rapporto favoloso, basato soprattutto sulla fiducia reciproca, un rapporto tra uomini, noi c'era un grande rispetto, io lo rispettavo come magistrato, lui mi rispettava come ufficiale dei Carabinieri, con tanti piccoli episodi. Lo racconto nel libro, ad esempio quando andavamo a interrogare Buscetta e stavamo per più di una giornata a Roma, la sera dopo aver mandato via la scorta facevamo lunghe passeggiate al centro di Roma e respiravamo quella che c'era impedito di respirare a Palermo, respiravamo l'aria della libertà. La speranza del giudice Falcone e la sua storia con i suoi fedelissimi è raccontata nel libro Noi gli uomini di Falcone, scritto dal generale Pellegrini e presentato in questa giornata di ricordi dove non si è potuto non parlare dei fatti di cronaca e di sangue della malavita che negli anni 90 ha messo sotto assedio la città di Bari. L'invito è questo, a tutti gli investigatori, all'opinione pubblica, ai giornalisti, ai cittadini a preservare quel livello di legalità che abbiamo conquistato a Bari tutti quanti con molti sacrifici. Lo sappiamo tutti cos'era Bari vecchia alla fine degli anni 80, inizio anni 90, era off limits, ma era vero che le volanti non potessero neppure transitare perché c'era il rischio di avere un vaso sulla capote della macchina oppure avere problemi di incolumità anche con gli operatori. Tutto questo è frutto di un lavoro fatto di equip, di un lavoro investigativo. La città di Bari e tutta la Puglia ha saputo reagire a questo assalto criminale che non era storicizzato da molti decenni, ma da alcuni decenni. Adesso la criminalità è sempre in agguato e quindi bisogna tenere alta la guardia. La democrazia va conquistata e va mantenuta giorno per giorno. Tante le vittime di spargimenti di sangue per le strade cittadine, vittime a volte innocenti come Michele Fazio che la sera del 2 luglio del 2001 perse la vita a soli 16 anni. Era nel posto sbagliato al momento sbagliato nel mezzo di un conflitto a fuoco tra clan e rivali. Il nostro impegno è quello di cercare di tirare fuori quei giovani dalle mafie, cercare di non farli entrare perché io dico sempre quando vado nelle scuole a parlare che chi entra in quelle mani delle mafie non la vedo uscite o il carcere o il cimitero. Chi fa uso di sostanze stupefacenti non fa altro che aiutare quelle mafie a crescere. Noi giriamo le scuole perché è giusto parlarne ai giovani, parlarne alla radio, alla tv, sui giornali. Nelle scuole bisogna sempre parlare e cercare in modo di aiutare questi giovani che ne hanno tanto bisogno.